Si va ormai plagando l'uragano giudiziario che si è abbattuto particolarmente sull'Alto Casertano lo scorso 13 settembre in merito alla presunta truffa dei rifiuti che ha portato agli arresti di numerosi politici, imprenditori e tecnici, ma molti sospetti restano fino a quanto la magistratura non metterà la parola fine. Noi abbiamo sentito con la collaborazione della nostra Valentina Monte l'ex sindaco di Piedimonte Matese Vincenzo Cappello, anche lui coinvolto nel suo esilio di Gaeta. Avvocato come va? Diciamo bene, le cose si stanno schiarendo e quindi sono abbastanza sereno. Lei chiaramente non si aspettava tutto quello che è successo, che cosa ha provato quella mattina quando ha visto le forze dell'ordine arrivare nella sua casa? La mia impressione è stata soprattutto che non era inaspettata, poi non ho mai avuto di questi problemi, quindi anche per me era la prima volta a subire una perquisizione a casa, quindi sono rimasto un poco sconvolto. Però niente di che, più che altro i giorni e le ore successive sono state un poco più traumatiche. Quindi lei per la prima volta ha visto aprirsi le porte del carcere, è stato devastante per lei? Sì, diciamo devastante, però io comunque mi sono dato forza e coraggio e ho affrontato nel migliore dei modi questi momenti così tragici. Cosa ha vissuto in particolare l'addendere nelle prime ore? Nelle prime ore ho cercato di capire, di leggere e rileggere l'ordinanza per capire poi quali eventualmente fossero le mie responsabilità, quelle responsabilità che mi venivano addebitate. E poi niente, nelle ore successive ho messo da parte l'ordinanza e ho cercato di riflettere, di pensare, di capire. Ma tutto questo con molta dignità e soprattutto dandomi molto coraggio. Quanti giorni ha trascorso in cella? Ho trascorso 20 giorni, i primi 5 giorni in un reparto, un reparto di passaggio e gli altri 15 in un reparto dove ci sono i detenuti che devono scontare le pene. I primi 5 giorni ero tipo un isolamento, io avevo l'inibizione, non potevo interloquire né con gli avvocati né con i familiari ma neanche con gli altri detenuti, diciamo, con alcuni detenuti. Quindi c'era anche il divieto, non mi potevo incontrare neanche con gli altri imputati, indagati. Lei è stato interrogato, dopo cosa è successo? Si è un po' liberato o no? Io sono stato interrogato, ho cercato di chiarire la mia posizione, ho cercato di dare le spiegazioni a tutto quello che mi veniva chiesto. È stato un interrogatorio molto sereno, sia entrambi i pubblici ministeri ma anche lo stesso GIP, molto cordiale, molto tranquillo e sereno. Ora è più sereno sicuramente, no? Ma devo dire che sicuramente oggi sono più sereno ma anche in quei giorni ho cercato di mantenere la calma, mi sono dato forza e coraggio, come si suol dire, e ho affrontato appunto con tanta serenità anche quei giorni. Che cosa ha detto ai magistrati? Se si può dire. Più che altro ci sono le indagini in corso quindi preferirei non evitare di entrare nel merito. Ma ho detto ai magistrati, ho spiegato la mia situazione, la mia posizione, soprattutto quello che è la mia posizione economica, che spesso non è conosciuto perché sebbene abbia un tenore di vita abbastanza elevato cerco sempre di tenerlo comunque basso. Nel risame pare sia caduto anche il reato di corruzione, questo è un fatto molto positivo? Sì, è venuto meno, diciamo in parte, questo debito della corruzione che era una cosa veramente molto mortificante per me. Per uno come me che si può permettere di rinunciare all'indennità di carica di sindaco, circa 250 mila euro in questi anni e insieme a me i consiglieri comunali per un milione di euro, un addebito, un'infamia della corruzione certamente mi toccava molto. Ecco, nell'ordinanza si fa riferimento anche ad una Ollus con la quale lei poi pagava le rette alle sue figlie. È un po' quello che, diciamo, il chiacchiericcio della gente, subito dopo quello che poi è avvenuto l'arresto, diciamo. Io sono, ho messo a conoscenza i magistrati dei miei redditi degli ultimi anni, che sono abbastanza elevati. E posso permettermi di mantenere le figlie al college, perché poi in effetti le figlie sono due, una sta in Svizzera e l'altra sta a Milano all'università. Io sono in condizione di poter mantenere questo tenore di vita. Non solo questo, ma di poter fare anche degli investimenti. Ecco, si parla di un investimento all'estero, che cosa ci può dire? Ma anche su questo ho fatto diversi investimenti, sia all'estero sia in Italia. Penso che un professionista, un imprenditore, possa tranquillamente e serenamente poter fare tutto questo. Ma sono cose che io parlo con le mie dichiarazioni dei redditi, con il mio lavoro, con la mia professione, che non è da oggi una cosa che va avanti da 20 anni. Quindi c'è un reddito elevato che può consentirmi di poter mantenere questo tenore di vita. Ecco, dopo le sue dimissioni da sindaco, anche i consiglieri l'hanno seguita a ruota. In effetti le dimissioni io le ho formalizzate durante l'interrogatorio con i magistrati. Io avevo appunto l'inibizione di incontrare sia i familiari sia gli stessi avvocati. In quella sede, alla fine dell'interrogatorio, ho chiesto la cortesia e il permesso al GIP e ai pubblici ministeri di poter formalizzare le dimissioni. E contestualmente chiedevo al mio avvocato, prima di depositarli al comune, di convocare i consiglieri comunali, sia per correttezza e per rispetto nei confronti degli stessi consiglieri comunali che mi sono stati vicini per tanti anni, di comunicare la mia decisione per vedere se loro la condividevano. E infatti contestualmente anche gli stessi consiglieri comunali hanno regolarizzato le loro dimissioni ed è caduto l'amministrazione comunale. Una forma di rispetto nei confronti della città per questa accusa e per fare in modo che l'amministrazione potesse continuare tranquillamente. Torniamo un attimo indietro. So che quando ero nel carcere hai scritto una lettera ai vertici della giustizia. Perché? Io ho preparato una bozza. Sto aspettando di avere la possibilità di poter andare allo studio e quindi formalizzare per bene questa nota. Io ho scritto sia a Renzi sia a Mattarella di insistere e di forzare su questa riforma del processo penale. Io penso che sulla giustizia un governo serio deve intervenire, deve essere una priorità. Quello che ho vissuto in questi giorni trascorti nel carcere mi fanno capire la necessità di un'accelerata a questa legge. C'è bisogno che i processi durino poco, siano veloci. Non è possibile che gente dopo 12-13 anni dalla commissione di un reato va a scontare una penna dopo che si è rifatto una vita, ha un lavoro, ha una professione e ritorna in carcere e perde il lavoro. Poi quando sconta la pena esce, che fa? Dove va? Quindi penso che soprattutto bisogna pensare a recuperare queste persone, al recupero di queste persone, a fare in modo che imparino un mestiere, un'attività, un lavoro. Il suo futuro politico alla luce di quanto è successo? Io penso che io sono un appassionato della politica e la politica è la mia passione. Il tempo ci sarà, al momento penso di dedicarmi soprattutto alla famiglia, che in questi anni ho trascurato molto, e alla professione. E per la politica c'è comunque il tempo, ci sarà il tempo. Quanto è previsto il processo? I tempi sono lunghi. Quanta fiducia ha nella giustizia adesso, alla luce di quello che è successo? Questa è la domanda finale. Guardi, io ho sempre avuto tanta fiducia nella giustizia e soprattutto nella magistratura. Continuo ad avere questa fiducia. Ritengo che sia necessaria e urgente la riforma proprio del processo penale e della giustizia. È importante che immediatamente ci siano delle nuove assunzioni di magistrati, di cancellieri, affinché questi processi possano durare poco. E poi penso che sia contestualmente importante e necessario un indulto, una amministia per queste persone che si trovano in calera. Per piccoli reati e soprattutto, diciamo la verità, quelli che stanno in carcere sono persone che non hanno la possibilità economica di potersi permettere un avvocato, un consulente, uno studio che li possa aiutare. Quindi vediamo che sono tutti pesci piccoli. Grazie a tutti.